ciao ragazzi di team commando siamo qua siamo arrivati a sera e tardi sono ormai se non erro 11 e mezza mezzanotte quindi giornata difficile piena molto motivante riprese di youtube personal schede palestra ovviamente oggi ho allenato ancora le gambe infatti sono disteso proprio sul divano come mio solito quest'ora allora oggi con voi vorrei tralasciare quello che è l'ambito schede alimentazione palestra integrazione e quant'altro vorrei soffermarmi con voi una chiacchierata proprio veloce veloce entrando nel mio io e raccontandovi un po quelle che sono state le mie esperienze per arrivare a ciò che sono oggi quali sono stati ovviamente i miei errori perché nessuno nasce diciamo imparato tutti facciamo degli errori ma come si sente dire ogni tre per due non è tanto importante riuscire ma riuscire a rialzarsi dopo i propri errori dopo le proprie cadute dirò una cosa populista e che voi sentite ogni giorno però ovviamente la vita ci pone delle dei gradini difficili ogni giorno da superare ci pone degli ostacoli ci pone delle vessazioni ogni giorno che noi dobbiamo sopportare dobbiamo semplicemente riuscire non a dire oddio il mondo è brutto ma cercare di nuotare nel fango e ovviamente cantare anche sotto la pioggia come si dice quindi non è tanto importante quante volte noi cadiamo a quante volte riusciamo ad imparare dagli errori che abbiamo commesso e non rifarli in futuro dire e a rialzarci perché dico queste cose molto ovvie perché tutti i giorni mi vengono fatte delle considerazioni su quello che è il mio io il mio vissuto su quello che è il vissuto magari anche di loris di nata tutti ci vedono sorridenti che ci alleniamo facciamo quello che ci piace senza magari spostare un po lo sguardo e vedere cosa facevamo un anno fa quali sono stati i nostri percorsi per arrivare a dove siamo adesso magari questo è solamente un intermezzo diciamo non è certamente quello che faremo fra un anno faremo fra due anni fa tre anni però è giusto pensare anche quello che facevamo prima come siamo arrivati a fare ciò che ci piace adesso ad allenarci a divulgare tutto il nostro sapere per quanto mi riguarda ovviamente il mio percorso di vita così come quello di studio così come quello lavorativo non è stato sempre lineare posso dire con affermazione con certezza che un periodo così tranquillo così soddisfacente così pieno di soddisfazioni come questo momento stiamo registrando i primi di ottobre 2017 non ce l'ho mai avuto allora uno potrà dire eh ma facciamo riferimento alla palestra tu ti alleni in questo modo tutti i giorni tu riesci a mangiare in questo modo tu riesci ad avere tutte le tue soddisfazioni perché tutto il tuo contorno di vita è perfetto sì certo ma non è che io sono nato con questo contorno di vita non sono nato con queste tranquillità ogni giorno dobbiamo cercare di costruirci il nostro nido costruirci le nostre abitudini che ci fassano stare bene costruirci la nostra routine di vita quotidiana che ci appaghi ogni giorno però vi ripeto noi qua stiamo registrando a mezzanotte più o meno io mi sono alzato molto presto ho fatto tutte le mie schede ho lavorato al cellulare costantemente mentre mi lavavo i denti ho risposto ai messaggi oramai sembrano quattro giorni fa ma era stamattina mi sono allenato 40 minuti stamattina di cardio due ore di gambe sotto lo sguardo attento del mio cameraman che diceva ma ne hai ancora sei stanco no no andiamo avanti diceva andiamo avanti non mi sono mai appagato ho fatto schede ho fatto personal ho ovviamente anche guardato la mia famiglia ho diciamo fatto le mie commissioni ho guardato il mio figlio ho guardato la mia compagna ho fatto tutto quello che fa una persona normale nella propria vita quindi è giusto crearsi prima di tutto un obiettivo ma non mollare al primo al primo ostacolo che obiettivo sarebbe se voglio una cosa boom ce l'ho non è un obiettivo è la normalità crearsi un obiettivo vuol dire intanto capire bene noi ciò cosa ciò che vogliamo capire bene come arrivarci ma non precludersi l'idea che ci arriveremo dopo un giorno non ci arriveremo mai dopo un giorno magari ci arriveremo dopo un mese due mesi tre mesi un anno tanti anni io riguardo indietro mi rivedo quando avevo 16 18 20 anni guardavo le persone della mia età adesso di soli 30 anni pensavo eh io arriverò in due secondi a fare quello che voglio io spero che voi arriviate in due secondi a fare quello che volete ma la vita i nostri errori i miei errori mi hanno portato a cadere tantissime volte a non sapere quello che volevo a non crearmi un futuro su quello che volevo fare oppure giustamente la vita alle volte in maniera giusta o non giusta ti pone degli obiettivi ti pone anche delle ingiustizie allora molto volte è facile dire oddio oddio il mondo è brutto mettersi a piangere e continuerete a piangere giorno dopo giorno il mondo andrà avanti e voi sarete rimasti a 50 60 anni a dire il mondo era brutto io ho continuato a piangere questo è quello che fanno tutti e quello che ho fatto anch'io è la maniera più facile per non risolvere i problemi abbiamo un obiettivo arriva un ostacolo ci fermiamo questa è la cosa che fanno tutti se voi avete veramente un obiettivo vedete che è quello che volete vedete che è giusto per voi vedete che è quello che sognate che bramate sentite la passione dentro crescere per voi andate contro l'obiettivo avete qualcuno che vi vessa che più andate avanti verso l'obiettivo più vi dice no non fa per te no non è quello che devi fare ascoltate non dite subito quello è un cretino ascoltate meditate quando capite che quell'obiettivo invece vostro non pensate a queste persone che vi vessano continuate andare avanti continuate però a lavorare per l'obiettivo così come in palestra in palestra ragazzi per me è normale fare fatica io non si vede ma ho un male pazzesco al quadricipite e femorali parlavo con il mio cameraman che mi diceva sai filippo posso chiederti una cosa io vengo dal mondo del degli altri marziali ho visto sempre la palestra più come un posto di contorno diciamo per il mio sport non capisco perché tu grande grosso stai piangendo dal dolore di fianco a te persone che dovrebbero migliorare tre volte di te che ridono scherzano guardano al cellulare parlano parlano con le ragazze vengono in palestra per fare tutto a parte che per allenarsi giustamente io detto mio caro matteo il problema è che loro semplicemente non si pongono un obiettivo credono che il loro obiettivo non faccia per loro credono che è ma se lui ci riesce avrà sicuramente degli agganci avrà sicuramente di qualcosa di favorevole che lo fa andare avanti non capendo che magari per arrivare a avere la mia tranquillità di allenamento dieta pasti che comunque mi preparo io se ho la fortuna che mi prepara la mia ragazza ancora meglio però nella maggior parte dei casi mi preparo io per avere questa routine di vita ho dovuto lavorare sodo ho dovuto anche prendere tante mazzate dietro la testa ho dovuto anche mettermi alle volte a dire forse non ce la farò forse non arriverò però anche nei momenti di massimo sconforto quelli che hanno tutto bisogna sempre cercare di avere quella fammella che magari si assopirà un pochino ma non si deve mai spegnere deve sempre essere pronta a essere avampata con nuova passione nuova forte di volontà nuovo lavoro solamente col lavoro che sia studio che sia fare un lavoro anche che non ci piace io ho fatto spesso lavori che non mi piacevano lavori magari che alle volte guadagnavo tantissimo alle volte per i miei errori ho sputtanato tutto sono dovuto ripartire da zero guadagnavo pochissimo ma non mi sono messo a dire il mondo è brutto lo posso aver detto un giorno due giorni tre giorni ma al quarto giorno bisogna guardarsi in faccia guardarsi allo specchio e dire chi sei dove vuoi arrivare cosa hai fatto per arrivarci hai fatto poco bene foglio bianco si riparte da capo per me andare in palestra ritornando a quello che dicevo prima è un piacere è un piacere fare fatica fatica uguale guadagno non sopporto vedere le persone che in sala pesi non fanno nulla ma benissimo non volete fare nulla stiamo lì e chiacchieriamo stiamo lì e schertiamo ma appena io giro la faccia non potete dirmi è ma lui ce la fa perché è portato è ma lui ce la fa perché chissà per quali motivi è ma lui ce la fa perché sai fa il personal vive in palestra ma se è così facile perché non lo fate anche voi qual è il motivo che vi spinge più a criticare rispetto che a fare criticare non è da persone vincenti bensì da perdenti fare e magari invidiare in maniera positiva e sana cercando di avvicinarsi a quello che vuoi che uno vuole è da persone vincenti ragazzi state costruttivi spesso si dice quello fa meglio qualcosa quello fa meglio qualcos'altro è ma lui l'ha fatto meglio è ma lui l'ha fatto peggio la cosa importante a mio avviso questo è il mio pensiero intanto che io non sono il guru di niente e come voi magari potete imparare da me io sono il primo a dover sempre imparare da voi perché non bisogna mai mettersi un pannello davanti agli occhi ma cerchiamo di condividere prendiamo il meglio ok il meglio di tutti quello fa qualcosa meglio benissimo condividiamolo rendiamolo nostro rendiamolo partecipare cerchiamo di costruire qualcosa questo è l'ambito è il il perché è nata questa pagina è nato questo canale youtube non cerchiamo sempre di criticare di di vessare di di fermarsi le apparenze prendiamo il meglio di tutti e condividiamo mi viene da fare una battuta quando avevo 18 anni e dovevo fare università avrei dovuto fare università qualche tempo dopo mi veniva detto è ma filippo adesso goditi la palestra perché appena inizio università dopo sono mazzie fatto università ho vinto gare mentre nell'università ho dopo tre anni ho avuto la scelta giusto sbagliati in questo momento reputo giusta di incominciare anche a lavorare durante l'università e ma durante il lavoro non riuscirai andare in palestra ho continuato a vincere gare nonostante il lavoro e la palestra e l'università ho lasciato l'università dedicandomi full time al lavoro e ma lascia perdere eccetera eccetera mi sono fidanzato eccetera questo ho convissuto è durante la convivenza vedi te se riuscirei andare in palestra poi è arrivata la cosa più bella del mondo mi è stato detto mesi fa che sarei diventato padre questa gioia mi ha donato una forza impressionante sono diventato padre e per tutti questi mesi occhio è quando arriverà il terzo il terzo incomodo il terzo incomodo palestra via via sto continuando ad andare in palestra ora è ovvio che ogni volta recarmi in palestra al mattino alla sera è proprio brutto perché rimarrei lì come uno stupido a guardare il mio bimbo però se uno vuole ragazzi le fa io come rispondo sempre a questa persona guarda ti do ragione quando morirò probabilmente finirò di fare palestra probabilmente però detto questo cos'è cambiato in questi ultimi giorni in queste ultime settimane che abbiamo avuto avuto la gioia di diventare genitore semplicemente poter dire che è cambiato tutto e non è cambiato nulla era un obiettivo che personalmente volevo arrivare a compiere diventare padre la cosa più bella del mondo però non ha cambiato quello che ero io sono io e spero domani di essere io un atleta che vive del suo lavoro spera di continuare a vivere del suo lavoro e si diverte in sala pesi quindi questo mi ha cambiato semplicemente ha cambiato la consapevolezza di me ma non ha cambiato le mie abitudini o perlomeno potrà aver cambiato certamente delle mie abitudini ma se uno vuole fa ve lo ripeto se uno vuole fa figli non figli mogli amanti questo non è essere un cattivo padre questo vuol dire ok certamente le priorità sono altre ma se tu hai una passione coltivola circondati di persone che ti aiutano o perlomeno non ti vessano sulla tua passione non circondati di ragazze che io lo devo dire lo dico spesso ricevo dei ragazzi a casa mia perché o in palestra dobbiamo redigere schede fare anamnesi andare avanti con la preparazione e mi hai detto ah ma la mia ragazza mi aspetta in macchina come ti aspetta in macchina vada a venire dentro le offre un caffè no no ma lei la palestra non la vuole neanche vedere di striscio non è un mio problema è la tua ragazza ma chi se l'hai scelta la ragazza io o te la sei scelta tu chi si sta scegliendo la tua vita la stai scegliendo tu o fai l'errore che ho fatto io tanti anni fa di seguire una corrente che non era mia di farsi creare aspettative da chi non aveva le mie stesse passioni e le mie stesse aspettative sei tu che ti stai creando la vita creala come vuoi tu non arriviamo alla soia degli 80 anni dicendo potevo fare ma non ho fatto meglio vivere di rimpianti che morire di rimorsi ricordatevelo sempre detto questo ovviamente il mio non voleva essere un sermone ho parlato come se avessi centinaia di persone davanti a me e volevo avrei sperato che qualcuno dalla telecamera venisse fuori mi disse la propria avete la possibilità di farlo avete la possibilità di scrivere dei commenti avete la possibilità giustamente di criticare di insegnarmi che qualcosa di far sì che possiamo condividere insieme la stessa passione ragazzi filippo rispoli team leader team commando e meglio che vado a letto perché qua all'orario si è fatto tardi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.